ci stai io stai a cominciare il video no? perché ti sei fermato assolutamente perché insomma oltre che quelle linee dietro giriamo perché quello bravo ci sta a far vedere delle cose vedono quelle linee là sono belle alla sardina non stavo volevo dire che l'hardware il premio c'è ce l'ho un garage con l'oltre italico però però ancora c'è il portatore d'acqua per qualche ora perché l'ultimo chilometro è quello da fare ancora mi devo meritare il premio qualche ora è bella per te e qualche oretta ancora da portatore d'acqua per meritarmi il premio la cosa bella è che il premio già me lo sono creato negli anni me ne vorrò creare ancora altri altri stimoli però ora l'ultimo chilometro le ultime ore le faccio a petto fuori per meritarmi con serenità vai via stasera è il premio prodotto italico perché uno deve finirle le cose off si ottiene quando le finite tutte le cose al weekend meglio una di meno ma non portasse la tara dietro fino al lunedì off vero per ricaricarsi io devo ancora andare a fare il mio ancora non mi ho merito il premio che hai fatto l'hai dato io oggi ho lavorato quindi suppongo per il momento hai fatto quanti anni hai 22 ma insomma hai lavorato che fai facciamo l'autoscuola poveriggio che fai facciamo salzichiamolo se andammo ho fila tornamo fai ancora affattuolo hai fatto purtroppo lavoro pure il poveriggio purtroppo purtroppo per fortuna sposta il focus per fortuna bello viva la vita che purtroppo si stava stava ma ha provocato è giocherellone bella per te viva la vita viva la vita ma che città ci abbiamo è una cosa da giocare la partita il premio è anche quello già prodotto italico bidet il regalino me lo so fatto